Anticipazioni Beautiful, mercoledì 4 settembre 2019 Macmillan, data di esistenza della Logan, è costretto a raccontare la verità, ma precisa che avrebbe preso, anche senza l'intervento di Ridge, la stessa decisione. Brooke grida alla corruzione, ma lui nega. Spiega di essersi basato su prove certe, di aver deliberato rimanendo al di sopra delle parti. Le azioni di Bill sono state veramente disgustose e la richiesta di Katie e di Thorne è stata più che sensata. Brooke però gli assicura che battaglierà. Nessuno la fermerà. Will ha tutto il diritto di avere il papà al proprio fianco. Lei purtroppo è cresciuta senza avere la figura paterna accanto e non vuole che nipote soffra come ha sofferto lei. Will intanto chiede alla mamma di poter passare un po' di tempo con Bill. Lei, sorpresa e felice, accetta. Gli assicura che come promesso potrà vedere il papà ogni volta che lo desidera. Inoltre è contenta perché vede che non ha più paura di lui. Bill chiede a Ridge di aiutarlo ma lui risponde di no. Vuole un bene immensa a Will e proprio per questo motivo ritiene che Thorne sia un genitore migliore di lui. Dopo un po' il magnate riceve la telefonata di Katie che gli fa sapere che Will vuole vederlo. Bill fa salti di gioia e la Logan precisa che non ha alcuna intenzione di tenerlo lontano dal figlio ma deve impegnarsi al massimo per dimostrare che gli vuole davvero bene. Ridge e Brooke intanto si incontrano alla Forester Creation. Lei nervosa dice di averlo smascherato e gli racconta dell'incontro avuto con Mac Mullen e ancora prima degli sms letti sul suo cellulare. Ridge però con fare sfavaldo dice che il vero crimine è un altro e cioè consentire a un uomo cattivo come Bill di fare il padre e la prega di non intromettersi e di mantenere il segreto. Bill alla Spencer si organizza per ricevere Will. Cancella tutti i suoi impegni e fa acquistare dei dolcetti per il bambino. L'arrivo di Katie è pieno di emozioni, padre e figlio si abbracciano. Lo Spencer gli promette che da quel momento in poi le sue priorità cambieranno e lui verrà sempre al primo posto. Grazie a tutti.